Ormai da settimane si attendeva solo che arrivasse la data prevista dopo una proroga di due anni del suo contratto a Palazzo di Città con il rapporto da dirigente ormai concluso, l'architetto Antonino Collura ha di fatto passato le consegne all'ingegnere Fabio Filippino che in comune è arrivato negli scorsi mesi e che era stato individuato per occuparsi esclusivamente del settore ambiente del capitolo rifiuti, invece senza l'approvazione del bilancio di previsione che dovrebbe tardare ancora per il contratto di Collura si è concretizzata la conclusione, l'architetto che nel corso dei mesi è anche stato sul punto di lasciare a causa dell'eccessivo carico arretto settori strategici a partire dai lavori pubblici e dall'autorità urbana che tra le priorità ha programmi di finanziamento come agenda urbana, tutto passa ad interim all'ingegnere Filippino. Ieri c'è stato un confronto diretto in municipio proprio per valutare le priorità e per dare eseguito alle procedure in corso, Collura e Filippino hanno fatto il punto della situazione, sia gli uffici dei lavori pubblici sia il gruppo coordinato dall'autorità urbana hanno scadenze precise e devono portare a termine progetti per finanziamenti già autorizzati sia dalla regione che dal governo nazionale. Saranno mesi sicuramente complessi da gestire, a fine estate andrà verso la pensione un altro dirigente tecnico, l'architetto Emanuele Tuccio, che a sua volta sta seguendo settori delicati come l'urbanistica e la SUAP. In questo periodo è impegnato per le autorizzazioni del maxiprogetto sul gas Argo Cassiopea. Gli uffici del comune scontano carenze di personale enormi e i concorsi richiedono ancora del tempo prima di essere espletati. Probabilmente per cercare di individuare rinforzi tra i dirigenti si punterà sui bandi per il PNRR che aprono spiragli comunque sempre a termine finalizzati solo ai progetti. Il sindaco Lucio Greco ha più volte sottolineato le difficoltà nella gestione di un sistema amministrativo che risente di scoperture di personale preoccupanti. Gli assessori Romina Morselli e Terenziano Di Stefano, che seguono i settori coordinati da Collura, periodicamente si confrontano con i tecnici e con il gruppo di lavoro che monitora i programmi di finanziamento, tra i quali spiccano per consistenza sia UGENDA urbana che Qualità dell'abitare. Il sindaco Greco, con due determini appena sottoscritti, ha disposto la nomina di interim di Filippino anche in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2022 che dovrebbe aprire altre opzioni per la copertura di eventuali nuovi incarichi dirigenziali. C'è chi teme un rallentamento netto degli interim corso proprio per l'eccessivo carico di lavoro che si concentrerà su un unico dirigente. Solo le prossime settimane potranno dare i primi riscontri in attesa di rinforzi appunto. Grazie a tutti.